È difficile parlare di dialogo quando in aula tu hai soltanto un'ora e 28 minuti per parlare della riforma della Costituzione. I problemi degli italiani sono ben alti, noi li riusciamo a capire. Per esempio oggi il governo vuole scappare a casa, andare in vacanza e lasciare un provvedimento a metà, un provvedimento che regala 240 euro al mese ai detenuti, nemmeno a pensionati, nemmeno ai disabili si riesce a dare questa attenzione. Per noi questo è uno scandaletto. Grazie.